Un piano investimenti che punta a potenziare le tecniche di laboratorio, gli strumenti che analizzano e controllano l'acqua che esce dai nostri rubinetti. Etra, in tempi di emergenza sanitaria, come quelli che stiamo vivendo a causa del Covid-19, ha deciso di puntare tutto sulla sicurezza della qualità dell'acqua. È fondamentale avere i presidi di garanzia per evitare la contaminazione, è questa la lezione che il coronavirus ci ha dato. Anche se è stato chiarito dall'Istituto Superiore di Sanità che l'agente patogeno del Covid-19 non si trasmette attraverso l'acqua distribuita negli acquedotti, non sono da sottovalutare tutti i possibili inquinanti. Etra ha delle importanti dotazioni per controllare la qualità dell'acqua che eroghiamo quotidianamente. Noi lavoriamo su un territorio, quello veneto, che è ricco di acqua di qualità e per questo dobbiamo essere attenti a preservare il territorio, ma anche a controllare costantemente i flussi di acqua dal punto di captazione fino al rubinetto dell'utente. Etra ha così deciso di dotare il suo laboratorio di analisi di Campo San Piero di nuovi strumenti per garantire un maggiore controllo dell'acqua. È uno strumento che abbiamo acquistato per arrivare ad avere una sensibilità maggiore nella ricerca dei metalli, quindi non so, da cui possa essere il nickel, il cromo, il piombo, lo zinco, ecco. Il servizio di acquedotto di Etra raggiunge quasi 595 mila abitanti dislocati dalle province di Padova, Vicenza e Treviso e mette in rete oltre 35 milioni di metri cubi di acqua l'anno e così i controlli sono ben al di sopra dei 50 mila ogni anno nell'ambito del piano di sicurezza acquedotto. La ricerca di nuovi inquinanti è un nostro dovere. È importante anche dotarsi di strumentazioni adeguate ed è per questo che oggi presentiamo delle nuove strumentazioni che ci rendono maggiormente indipendenti e autonomi e maggiormente tempestivi nell'analisi.